Buona giornata a tutti, rieccomi qui in trasmissione con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo e nella seconda parte leggiamo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poeteisti e Casella Postale 53 Marostica a Vicenza. Prima di dare il via alla trasmissione di oggi voglio ricordare siccome ci siamo dimenticati nella prima parte della trasmissione che venerdì 24 settembre allora venerdì 24 settembre 1999 alle ore 20 e 30 nella biblioteca di Crespano del Grappa il professor Silvano Lorenzoni tiene una conferenza ricordiamo i nostri antichi padri pagani cenni sulla religiosità dei popoli pre-indo-europei. L'ingresso è libero ed è organizzato da studi veneti perché facciamo pubblicità a questa conferenza? Perché riteniamo che tutte le conferenze storiche tutte le conferenze di analisi della storia, delle trasformazioni storiche siano comunque importanti. Cioè comunque è importantissimo riuscire a comprendere quello che è stato il passato e costruire il futuro. Naturalmente noi non potremmo mai conoscere tutto il passato perché tutto il passato è stato cancellato. Però gli sforzi che vanno a individuare le trasformazioni che dal passato hanno portato ad oggi sono sforzi importanti, sono cose preziose che è bene conoscere. Allora il professor Silvano Lorenzoni tiene una conferenza sulla religiosità dei popoli pre-indo-europei. Venerdì 24 settembre 1999 alle ore 20 e 30 biblioteca di Crespano del Grappa, Treviso, piazza San Marco. L'ingresso è libero, cioè chiunque può venire ad ascoltare, non so come si organizzi, non è competenza mia, io vi avverto soltanto i radioascoltatori che c'è questa conferenza. Io spero di esserci, anzi sicuramente spero di assistere alla conferenza. Per cui posso dare l'appuntamento a tutti quanti per il 24 settembre alle ore 20 e 30 alla biblioteca di Crespano del Grappa. Il professor Silvano Lorenzoni tiene una conferenza su ceni della religiosità dei popoli pre-indo-europei e dal titolo anche un po' sentimentale ricordiamo i nostri antichi padri pagani. Appuntamento allora il 24 settembre alle ore 20 e 30 alla biblioteca di Crespano del Grappa. Naturalmente questa è una cosa storica, cioè non è una cosa religiosa, non è come le nostre conferenze dove stiamo costruendo il pensiero religioso e il pensiero del futuro. E questo è una ricerca storica, per cui chiaramente a tutti i caratteri di una ricerca storica. Detto questo prendiamo la nostra trasmissione normale. Allora, la nostra trasmissione normale che è ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Allora, siamo quasi arrivati alla fine in realtà di questo libro e oggi faremo un discorso molto importante. Faremo ciò che porta alla soluzione delle contraddizioni nella costruzione del divenire. Sarebbe il capitolo 15 di questo libro. Vi ricordo che quando ho finito il libro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, comincerò altre cose. Comincerò intanto a parlare della sottomissione nel Vangelo di Giovanni. Poi continuerò con i fenomeni di premorte, con il libro dei fenomeni di premorte interpretati da Stragonella del Paganesimo Poeteista. Poi vi leggerò i concetti degli gnosti, delle religioni misteriche, come sono stati trasformati nei Vangeli ufficiali. Giuda, Tommaso, Didimo, l'ultimo Stragone Pagano. E poi continueremo. Abbiamo talmente tanto materiale scritto che possiamo affrontare l'intera banda dell'esistenza. Ebbene, che cos'è la guerra? È l'atto più eclatante attraverso il quale gli esseri umani risolvono le contraddizioni più drammatiche della loro esistenza. La guerra è un sistema estremo per risolvere contraddizioni estreme. Chi è in grado di affrontare la guerra è in grado di affrontare ogni tipo di contraddizioni. Questa era la visione nel sistema sociale e religioso dell'antica Roma. Purtroppo non avevano considerato che il mezzo, usato per affrontare l'esistenza, è quello che trasforma e modifica l'essere umano che ne fa uso. La drammaticità dell'assolutizzazione del mezzo porta l'essere umano a considerare la soluzione delle contraddizioni possibili soltanto attraverso la guerra. Non che questa sia la scelta dell'essere umano in quanto tale, ma la scelta del suo comando sociale. Quando il comando sociale vive le relazioni con il sistema sociale in termini di appropriazione, può considerare la soluzione delle contraddizioni che incontra soltanto attraverso un atto di violenza. Nel contempo, non essendo in grado di percepire lo sviluppo di una contraddizione, nella sequenza dei mutamenti che questa innesta, può soltanto operare per il suo annientamento. Il mezzo si appropria dell'individuo. Il mezzo si trasforma in fine del fare dell'individuo. Il mezzo, trasformato in fine, distrugge il divenire dell'individuo. La guerra non è solo atto imposto, la guerra è anche atto subito. Quando è che la guerra è un atto subito? Quando un patto viene rotto e ne viene imposto un altro che diminuisce i margini di libertà e di sviluppo della parte soccombente. La guerra è atto di appropriazione. La guerra è un atto di rapina. La guerra è atto di distruzione del divenire dell'individuo o dei sistemi sociali. Quando la guerra è un atto di liberazione? Quando è attività atta di impedire l'appropriazione? Quando si agisce per salvare e per proteggere il divenire dell'individuo o del sistema sociale? Dall'avvento del cristianesimo ad oggi si è presentato un nuovo tipo di guerre, atto ad obbedire a leggi diverse dalla propria azione. Si tratta delle guerre di religione e delle guerre razziste o comunque coperte dal razzismo. Questo tipo di guerra obbedisce a leggi diverse dalle precedenti, impongono la distruzione sistematica degli individui e di tutti quegli strati che potrebbero un giorno ricostruire un sistema sociale tale da rivendicare il proprio diritto di essere. La guerra di religione non esiste nella tradizione antica, viene dichiarata dalle religioni rivelate. Le religioni rivelate da un Dio padrone. Mentre il paganesimo è relazione fra l'individuo e il circostante, nelle religioni rivelate l'individuo deve essere sottomesso per essere sacrificato da un Dio padrone. La necessità di sottomettere l'individuo con tutto il suo corpo, con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, con tutti i suoi sentimenti e con tutta la sua morale è un'esigenza nuova che appare sulla soglia della storia imposta dalle religioni rivelate. La necessità di sottomettere l'individuo come sacrificio rituale al loro Dio. Questa necessità si fonde con la guerra per rapina, ma spesso la sostituisce e l'aspetto del sottomettere diventa prioritario rispetto alla necessità di rapinare. È come se fosse più importante predisporre gli individui per essere rapinati che non rapinarli. Sottomettere, assoggettare, significa predisporre per essere rapinati ed utilizzati come bestiame. Significa predisporre le vittime per il sacrificio, dove il sacrificio della vittima consiste nel privarla del suo corpo luminoso e per conseguenza distruggerle nel divenire. Vale anche distruggerle il divenire per poterla privare del corpo luminoso. Lo spirito che si è spacciato per Dio creatore nelle religioni monoteiste si nutre di energia vitale stagnata e per ottenerla deve allevare bestiame umano rendendolo disperato per poterlo sottomettere. Questo nuovo tipo di guerra è caratterizzato da una violenta attività distruttrice nei confronti degli esseri umani e si accanisce con maggior forza nei simboli e nei mezzi attraverso cui quegli esseri umani fondano il loro divenire. Ad esempio, vengono distrutte tutte le statue delle divinità, vengono bruciati i libri, oppure vengono messi all'indice, vengono massacrati i primogeniti, qualora quella cultura si tramandi attraverso la primogenitura, oppure ancora vengono violentate le donne con ferocia, qualora quella cultura emargini le donne che hanno subito violenza. Oppure ancora si procede alla distruzione sistematica di ogni essere umano indifeso, affinché non possa tramandare il proprio principio speranza. In altre parole, si distrugge il divenire costruendo la miseria sia fisica che morale e culturale. Durante una trasmissione radiofonica tenuta qualche giorno fa, allora quando ho scritto questo libro, molti radioascoltatori vantavano ed esibivano la loro ignoranza, quasi fosse il risultato della loro vita. Ciò era sconcertante. Era il risultato dell'attività distruttiva del macellaio di Sodome Gomorra. La massima espressione di questo saccheggio la ritroviamo nelle crociate contro i pagani, nella persecuzione contro la stregonaria e l'eresia, nel traffico di schiavi dall'Africa alle Americhe, nella distruzione delle culture latino-americane, nell'attività di sterminio nazista e nella distruzione dei sistemi sociali dell'est europeo ai giorni nostri. Tutte queste guerre non rientrano nei concetti di guerra del paganesimo. Anche se il termine guerra è uguale, gli effetti e i fini della guerra sono diversi. Pertanto, diversa è la predisposizione dell'individuo, la sua trasformazione, la tensione verso il cambiamento. Nelle guerre di religione monoteiste esiste il concetto di distruzione per la distruzione, dove la distruzione dell'individuo è finalizzata alla distruzione del suo divenire. Spesso distruggere le statue e i simboli diventa di un'importanza strategica per la conduzione della guerra, il suo fine. In questo contesto, ogni legittima difesa diventa lecita, anche quando mezzi ed effetti sembrano collimare. L'uscita dall'orrore spesso implica orrore nei confronti dell'orrore o dei semi piantati per costruire l'orrore. Sarevo delle sementi. Quando parliamo della guerra e delle divinità della guerra, non ci riferiamo a questo tipo di guerra. Questo tipo di guerra era sconosciuto fra i pagani e anche quando il comando sociale degli assiri tentarono di loro in atto, trovarono ben presto chi li distrusse. La guerra nella religione romana è fondazione del divenire. Come ogni atto della fondazione del divenire, la sua essenza religiosa consiste nello spingere per la dilatazione della coscienza di sé nell'esistente. Marte è la contraddizione che si risolve attraverso la guerra. Una contraddizione viene risolta a suo favore o per lui non c'è divenire. Oppure, o viene risolta quella contraddizione in suo favore o deve ricostruire una diversa sequenza di mutamenti per continuare a costruire il suo divenire. Marte è la forza che sconfigge l'inverno e apre le porte verso l'estate. Così essere Marte significa agire per costruire il divenire affrontando le contraddizioni dell'esistenza. Arrivare a farsi Marte all'interno di un movimento in cui la non soluzione delle contraddizioni potrebbe annientarci significa essere stati molto distratti alle trasformazioni in atto nel circostante. Marte è l'unica possibilità di un sistema sociale di continuare a svilupparsi senza per questo necessariamente sottomettersi alle imposizioni di un altro sistema sociale. Marte è un centro di energia vitale dal quale trae origine Roma. L'origine di qualche cosa ha lo scopo di perpetrare e sviluppare quella cosa. Roma viene fondata e costruisce se stessa all'interno delle contraddizioni con le città vicine. Sono momenti di grande tensione con la Lega Latina, con i Sabini, con gli Etruschi. Marte appartiene ad ogni popolazione, ogni popolazione ha le sue origini da esporre e da recriminare nei confronti di ogni altra città. Ogni città chiama raccolta il proprio essere Marte per affrontare le contraddizioni del suo presente, ma quel presente fonda il futuro e ad ogni scontro Marte diventa più forte. L'essere Marte delle varie città si unifica diventando un grande Marte, il Marte del divenire umano. Anche Quirino è costretto a variare la propria sequenza di mutamenti. Anche Quirino è costretto a diventare l'essenza della città e fondare il proprio essere Quirino Marte in Marte. Le contraddizioni si risolvono dando origine ad una nuova sequenza di mutamenti. La guerra di cui Marte nella forza motrice è intesa soltanto come un momento attraverso il quale viene fondato il proprio divenire. Un momento in cui la contraddizione assume i toni drammatici da non permettere all'essere umano di ignorarne le conseguenze. L'inizio è sempre un momento di fragili equilibri. Marte è quando quegli equilibri si spezzano. Termini tanto drammatici da costringere l'essere umano a concentrare tutto se stesso, la propria energia, la propria forza, la propria ingegnosità per portare l'esito della soluzione delle contraddizioni a proprio favore. Marte è un centro di energia vitale che fonde il proprio divenire dalla tensione sviluppata agli esseri umani per costruire un cammino di libertà. Marte non è la guerra che soggioga e che sia propria agli esseri umani. Marte è la guerra che libera dalle catene e dalle costrizioni. Marte fornisce l'energia vitale agli esseri umani per aiutarli a liberarsi dell'inverno della vita e fondare il proprio divenire. Nel far questo gli esseri umani nutrono Marte delle loro passioni e delle loro tensioni. Insieme percorrono un comune cammino per diventare eterni. La distruzione sociale del concetto di Marte, allo scopo di distruggere la relazione fra gli esseri umani e questo centro di energia vitale, ebbe impulso decisivo da Augusto. Egli, uomo Dio, doveva porre ogni immagine divina sotto la sua personale proprietà. Egli doveva considerare se stesso, la propria immagine di uomo Dio, come espressione protetta da ogni divinità. Così Marte non era più un centro di energia vitale con la quale gli esseri umani si relazionavano. Doveva diventare espressione di un altro uomo Dio col quale l'imperatore intratteneva rapporti. Così Augusto, dopo la battaglia di Filippi, era esso un tempio a tale Marsultor, Marte Vendicatore, che non aveva nulla a che fare col centro di energia vitale Marte. La vendetta affonda il futuro, quando l'azione compiuta è rimozione di ostacoli nella costruzione, non quando si cerca la soddisfazione di imporsi a comando e dominio di esseri umani. Quello è potergli avere, l'inizio della distruzione della loro sequenza nei mutamenti. Era solo una proiezione dei desideri e dei bisogni di un individuo che voleva appropriarsi del mondo e sottometterlo. Un preambolo all'arrivo di un ben più feroce uomo Dio. Quirino è in relazione con Marte. In alcune culture antichissime, Quirino e Marte erano la stessa cosa. Ma mentre Marte si trasforma diventando un centro di energia vitale che diviene attraverso la tensione con cui gli esseri umani risolvono le contraddizioni più drammatiche della loro esistenza per continuare a costruire il loro divenire, Quirino diventa la costruzione di un nuovo divenire, di una nuova sequenza dei mutamenti attraverso la fondazione di una nuova città. La fondazione di quella città e il convergere delle tensioni atte a renderla grande, bella, vivibile, costruiscono Quirino che, a sua volta, infonde vigore alla città per permettere a questa di alimentarlo. Quando le contraddizioni si abbattono forti e violente su quella città, ecco Quirino combattere per risolverle e continuare la sequenza di mutamenti che lo porta a diventare eterno. Grandi città si sono trasformate in piccoli villaggi, piccoli villaggi si sono trasformati in grandi città. Queste sono contraddizioni nelle quali i Quiriti hanno modificato il loro divenire. Era Quirino ed era Marte. Era Quirino il divenire della città. Era Marte le tensioni che i Quiriti sviluppavano per proseguire nella loro sequenza di mutamenti. Marte è la tensione del divenire. Quirino è il soggetto che diviene. Gli esseri umani sono l'uno e l'altro a seconda del momento e delle relazioni. È importante per qualificare lo spessore e la direzione dello sviluppo del centro di energia vitale Quirino ricordare un episodio leggendario. Sul Quirinale sorgeva il tempio a Quirino e davanti al tempio erano piantati due mirti. Uno rappresentava i plebei e l'altro i patrizi. Mentre il mirto dei plebei crebbe rigoglioso, l'altro, quello dei patrizi, crebbe pochissimo. Questo era dovuto all'energia vitale che Quirino distribuiva. Il divenire della città era legato al divenire dei costruttori. Era legato a chi era in grado di ingrandire e difendere la città, non a chi ne pretendeva il possesso e il dominio. Quirino si sviluppa attraverso la costruzione, non attraverso l'appropriazione. La città è frutto di costruzione, non di saccheggio del lavoro di altre mani. L'importanza di Vacuna relativamente alla guerra è determinata dal soggetto che intraprende la guerra. La guerra è un atto di libertà o tale da preservare la libertà stessa. Vacuna è il soggetto che attraverso un atto di guerra intende fondare la propria volontà. Questa figura era prevalentemente Sabina. Con lei i Sabini identificavano la loro volontà di esistere e di espandersi. L'identificazione di Vacuna con altre divinità considerate simili è equivalente a un atto soggettivo in quanto Vacuna era espressione della soggettività di un popolo e non proiezione di altre divinità. Il fatto è che Vacuna comunque era sintesi Sabina del principio femminile della vita e delle tensioni in espansione nel circostante. Comunque Vacuna si relazionava con il circostante facendosi venere nei confronti del circostante stesso. Comunque Vacuna esprimeva le tensioni della crescita in ogni direzione e in ogni situazione. Comunque Vacuna sviluppava il sapere e la conoscenza per continuare a crescere e svilupparsi. Vacuna non è la guerra ma è un potere di essere che vorrebbe prevenire la guerra, rendere la contraddizione da affrontare un po' meno drammatica. Prevenire la guerra come attività dell'oscuro. Oscuro che non deve essere inteso in forma di buio ma nella forma di non apparire. Il non apparire è attività attraverso la quale si inseriscono gli elementi fondanti del divenire fino a quando il manifesto rende principale, palesandola, la costruzione. Rendere palese la costruzione significa imporre una direzione di mutamento che ha evitato la soluzione delle contraddizioni mediante la guerra imponendo un percorso di mutamenti diversi. È il farsi venere di Vacuna nel circostante che permette l'imbocco di una nuova sequenza di mutamenti. È l'essere che si fa Vacuna che agisce nello scuro per favorire i mutamenti. Questo non significa che le contraddizioni affrontate da Vacuna siano minori di quelle affrontate dagli esseri umani quando sono costretti ad affrontare le contraddizioni facendosi Marte. Solo che nel primo caso la soluzione delle contraddizioni è spezzettata in un numero lunghissimo di scontri dove la pazienza e la determinazione deve essere centellinata lungo un percorso completo di trasformazioni. Nel secondo caso la soluzione delle contraddizioni avviene in tempi e in una sequenza di mutamenti relativamente brevi e quasi sempre manifesti anche se in modo molto intenso. Affrontare la contraddizione significa essere costretti a cercare una soluzione. Quando la contraddizione si risolve solamente con un atto di guerra l'essere umano si gioca tutto, si gioca il divenire e la vita. La contraddizione risolta attraverso la guerra è quella contraddizione che non permette la continuità nella sequenza dei propri mutamenti ma deve necessariamente variarne la sequenza. Bellona è la furia che esplode dentro gli esseri umani nel momento in cui sono costretti ad affrontare le contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra. Bellona è compagna di Marte nella misura in cui esplode dentro l'essere umano quando si fa Marte per affrontare le contraddizioni dell'esistenza che si risolvono soltanto attraverso la guerra. Bellona è una furia che tende ad appropriarsi dell'essere umano. Se l'essere umano non riesce ad imbrigliare Bellona e a scatenarla rimettendola al suo posto quando non serve, l'essere umano finisce il suo percorso di essere fondendosi con Bellona ed esaurendo in essa il suo percorso di conoscenza e consapevolezza. Gli occhi di Bellona sono gli occhi di furia, gli occhi di Bellona sono gli occhi di Diana. Nella mano teneva il fuoco di cui era espressione e nell'altra quanto gli serve per risolvere la contraddizione che affrontava una daga. Oggi potremmo rappresentarla con un fucile mitragliatore. La guerra non è solo determinata, la guerra è anche subita. La contraddizione si risolve attraverso la guerra. Quando la contraddizione si risolve attraverso la guerra e una delle due parti sta soccombendo, la costruzione del suo divenire viene affidato a fuga. Fuga è il disordine generato da spavento e dalla paura di dover rinunciare alla sequenza dei mutamenti per ricominciare da capo. Una nuova sequenza di mutamenti genera incertezza, genera disperazione. La vecchia sequenza si era sedimentata dentro l'essere umano. Essere costretti a modificarla perché la contraddizione ci sta travolgendo ci si fa fuga in quanto spavento sia appropriato del nostro essere. Fuga è figlia di terrore e disperazione. Chi non si fa prendere da terrore e disperazione accetta la sconfitta e percorre una nuova sequenza di mutamenti. L'uno e l'altro è scelta soggettiva. È scelta del divenire del singolo essere umano, del suo potere di essere, della sua capacità di guardare o meno il tempo mentre gli viene incontro. La soluzione delle contraddizioni può essere sanguinosa, può essere terribile, il nemico può essere devastante. In questo quadro qualcuno fugge, qualcuno subisce vessazioni ma rimane. Rimane anche se umiliato e offeso per continuare a vivere, per continuare a costruire un futuro possibile. In questo caso le predilezioni dello spettatore lo portano a parteggiare per chi resta o per chi fugge. In realtà la scelta appartiene allo specifico divenuto di ogni essere. Decidere che questo o quello è meglio è affare da cristiani, di chi umilia gli esseri umani per scopi diversi dal loro divenire. Fuga può essere un grande centro di energia vitale o qualcosa di riprovevole dal punto di vista del divenire dell'esistenza. Eppure, ciao Franco, eppure fuga si limita a coltivare il proprio divenire. Ciao, si limita a coltivare il proprio divenire e ogni essere umano deve coltivare il proprio divenire. Ciao, ogni essere umano deve coltivare il proprio divenire facendosi fuga solo quando ogni altra scelta per lui non esiste. Spavento e paura fanno parte dell'essere umano. Diventano essere umano in momenti particolari. Diventano essere umano soltanto quando l'autodisciplina dell'essere umano e la sua capacità di guardare il tempo mentre viene incontro distruggono la sua volontà e le sue determinazioni. Quando la contraddizione affrontata è tale che la sua autodisciplina e il suo divenuto non è sufficiente per affrontarla. Quando l'autodisciplina e le determinazioni dell'essere umano sono tali da consentirgli di affrontare le contraddizioni non si può mai determinare in quanto l'ultima contraddizione che l'essere umano è costretto ad affrontare è la fine del corpo fisico. Per sintetizzare, prendendo da un film diremmo pronto non esiste, non si è mai pronti. Quella è l'ultima contraddizione soggettiva, l'ultima guerra, l'ultimo scontro del suo divenuto. Solo che paura è composta da due facce. Assale e possiede l'essere umano quando questo è rinunciato alla fondazione del proprio futuro? Oppure può essere un grande alleato del divenire dell'essere umano? Nel suo divenire l'essere umano la disciplina la costringe a camminare al suo fianco, la costringe a prendere un posto preciso dentro il proprio animo, diventando parte di se stesso. Così paura non si appropria più dell'essere umano, ma genera quel timore che gli consente di essere prudente nell'affrontare le contraddizioni della vita. Le contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra. Paura da essere ossessivo diventa un grande alleato per la costruzione del proprio potere di essere. Quando si affronta una contraddizione che si risolve attraverso la guerra, lo si fa per disperazione. La guerra è l'ultima possibilità lasciata alla disperazione degli esseri umani. In quel momento si vorrebbe che la parte che costringe ad affrontare la contraddizione fosse colta da peste o da improvviso impedimento perché non continui a sviluppare la soluzione della contraddizione. Si vorrebbe che la maledizione affrontasse il nemico e lo distruggesse prima che questi ci costringa ad affrontare la contraddizione. Quando la contraddizione si risolveva con mezzi modesti, era sicuramente l'UA che interveniva. Il nemico arrivava alle porte della città, ma era costretto a ritirarsi. Vedremo in seguito Ridiculus, ma vedremo come la determinazione degli esseri umani nell'affrontare la contraddizione costringeva il nemico a ritirarsi. A tale proposito è necessario ricordare come negli scontri tribali, credo nella nuova Guinea, le tribù si affrontano sviluppando ed esponendo la propria forza ma senza attaccare effettivamente il nemico. L'esposizione della forza è l'esposizione della propria lua. Più o meno come nello scontro gli esseri cervi, espongono quanto sono e non tendono a distruggere l'avversario. Nello sviluppo del potere di essere questo si esprime attraverso la relazione, non attraverso la distruzione come il potere di avere, intervenuto nella contraddizione. Imporrebbe, ma l'UA è qualcosa di più. L'UA è figlia di Saturno, l'UA è figlia del principio speranza, l'UA è figlia dell'essere umano che diventa stregone, fondando il proprio divenire in funzione della costruzione del suo corpo luminoso. Per l'UA rimandiamo al sentiero d'oro. Importante è sottolineare il ruolo di l'UA nella contraddizione all'interno della guerra come mezzo per la soluzione delle contraddizioni. L'UA è l'atto dello stregone, che affronta le contraddizioni alterando il campo di energia vitale degli esseri anziché affrontare le contraddizioni sul piano della ragione quando più null'altro è possibile fare. L'essere umano stregone può prevenire la guerra, in quanto può guardare il tempo mentre viene incontro. Come può favorirla? L'essere umano qualunque può determinare o subire la guerra in quanto allo sguardo inchiodato nel passato. L'essere umano qualunque può decidere di fare la guerra o subire la guerra, ma non può prevenire o agire affinché la guerra si manifesti o non si manifesti. Agire sulle linee di tensione lo può fare solo lo stregone. Cioè lo solo stregone può agire per favorire una certa situazione oppure no. L'essere umano qualunque può agire nella ragione, può fare treppi, può fare il mafioso, può agire alle spalle, può fare le sue furbate eccetera per fare una guerra. Oppure può subirla, cioè qualcuno che ti fa il treppo o qualcuno che ti mette in condizioni di dover fare una guerra. E sono due comportamenti che sono assolutamente diversi. Uno agisce su un piano della percezione, uno agisce sulle linee di tensione e sulla magia, l'altro agisce sulla quotidianità. Quello che agisce sulla quotidianità ha bisogno del segreto, quest'altro non ha bisogno del segreto. Vabbè, la spiegazione è comunque un po' lunghitta sulla cosa. Andiamo avanti. Con Lua e Vacuna vanno verata anche Nerio. Nerio è una furia non troppo furiosa. È l'essere umano che affronta la guerra con forza e determinazione senza che questa forza e questa determinazione si impossessi dell'essere umano. Nerio è la furia della ragione. La furia che si esprime attraverso la ragionevolezza e il calcolo che la descrizione della ragione è in grado di fare. Nerio è la forza della ragione. È la determinazione della ragione umana all'interno del quotidiano della ragione. Nerio non è bellona. È come se Nerio fosse la bellona della ragione, se vogliamo. Nerio è una costruzione della ragione quando affronta giorno dopo giorno le contraddizioni dell'esistenza. la ragione così costruita affronta la guerra. Quella ragione affronta lo scontro con distacco e nello stesso tempo con determinazione. Quella guerra non è in grado di coinvolgere l'intero essere. Questi guarda lo sviluppo della contraddizione con distacco e tuttavia vi partecipa con tutto se stesso. Con distacco guarda lo sviluppo della contraddizione il suo corpo luminoso. Con tutto se stesso vive la contraddizione e la sua ragione. È una guerra che non coinvolge il divenire del singolo essere, ma di parti diverse dal singolo essere, come potrebbe essere il suo comando sociale, al quale l'essere umano deve obbedienza, ma che non ha deciso di fare proprie le sue determinazioni, i suoi fini e i suoi mezzi. Più o meno come nella prima guerra mondiale tanti soldati spararono alle spalle dei propri ufficiali. Perché questo? Perché erano costretti a partecipare alla guerra, ma non gliene fregava niente di partecipare a quella guerra. Andiamo a pallor e pavor. Altro non sono che paura e spavento. Di paura si è già detto, spavento è la sorpresa. È la capacità della contraddizione di sorprendere l'essere umano impreparato. Spavento preclude fuga, anche se ritirata è più appropriata. Spavento può essere evocato soltanto da chi è parte integrante della contraddizione che si sta sviluppando, il motore di essa. È necessario un grande potere e una grande determinazione per produrre spavento. In ogni caso spavento sorprende soltanto gli esseri umani più deboli, quelli che hanno dimenticato o non hanno voluto sviluppare la propria autodisciplina e il proprio potere di essere. Spavento è un soprassalto dell'essere che se non è in grado di soggiogare l'essere lo costringe a compattarsi e a sospendere il giudizio per rielaborare la propria descrizione. Spavento è un grande potere che l'ua può usare per scacciare i nemici. Scacciare i nemici. Il pallore che assale l'essere umano quando viene spaventato e non riesce a far fronte in maniera immediata all'assalto subito dall'oggettività. È il segno della sorpresa. È il segno dello spavento. Soltanto quando l'essere umano sarà riuscito a superare il momento dello spavento, se ne sarà capace, potrà distruggere o limitare l'oggetto della sua paura. Allora pallore sarà un prezioso alleato. Quello spavento lo ha costretto nella contraddizione. Sarà la sua disciplina, sviluppata nei momenti precedenti, che lo ha addestrato a far sì che lo spavento non lo distrugga, a limitarne gli effetti. Tullio Ostilio dedicò un tempio a pallore affinché nessuno dimenticasse l'attimo presente attraverso il quale si forge il proprio essere e si impedisce a pallor di impossessarsi di se stessi rendendoci deboli o impotenti nell'affrontare la contraddizione dell'esistenza. Ricordare l'esistenza di un centro di energia vitale affinché questo, teso a sviluppare il proprio divenire, non ci soffochi. Pollenza, nello sviluppo delle contraddizioni relative alla guerra, era la rappresentazione del vigore fisico. Ogni essere nella natura si sviluppa attraverso la sua fisicità. La fisicità nell'essere permette di sfruttare al meglio il proprio divenuto, per far fronte alle contraddizioni dell'esistente. La prestanza fisica è una di queste. Pollenza è un centro di energia vitale il cui scopo è nutrirsi del processo di sviluppo fisico di ogni essere della natura. Egli favorisce lo sviluppo fisico al meglio di ogni essere, in quanto la tensione per quel tipo di sviluppo rappresenta il nutrimento per il suo divenire. Essere Pollenza significa affrontare al meglio le contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra. Significa farsi più facilmente Marte. Significa dare spessore seguito allo sviluppo di furia dentro l'essere umano. La rabbia dell'essere umano non supportata dalla forza fisica o da determinazioni e volontà è rabbia vuota, rabbia impotente. Questa rabbia non è in grado di sviluppare le proprie determinazioni e la propria volontà nella guerra. È costretta a subirla e a piangervi sopra. Questo non è Pollenza. Pollenza forgia l'individuo affinché nel momento stesso in cui è costretto ad affrontare le contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra sia nelle migliori condizioni fisiche possibili. Il nemico di Pollenza è la sottomissione determinata dai maghi neri cristiani, l'imposizione della fede del loro Dio, l'assoggettamento alle contraddizioni dell'essere umano, l'azione dei cristiani attraverso la quale imporre pace a chi subisce la contraddizione. Il nemico di Pollenza è il disarmo che l'essere umano ha subito ad opera degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, l'imposizione della debolezza fisica per sottometterlo meglio alla pulsione di morte di cui i cristiani erano i gestori. Curare la propria prestanza fisica non deve essere l'atto assoluto del divenire umano, ma deve essere parte del proprio divenire. Solo Ercole risolve se stesso nella prestanza fisica. Solo il potere di avere agisce sugli esseri umani soltanto attraverso il possesso determinato dalla fisicità del suo terrore. L'essere umano prende appollenzia e lo fa diventare parte del proprio divenire senza diventare appollenzia e risolversi in esso. A appollenzia va affiancato il centro di energia vitale Vitula, il vigore fisico dato dai cibi. I cibi come elemento attraverso i quali si costruisce la propria forza fisica e il divenire degli esseri umani all'interno della natura. Cibi e gioia rendono un fisico sano pronto per affrontare il circostante e le contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra. La guerra non è attività di disperati, è determinazione di esseri umani il cui scopo è difendere la sequenza di mutamenti attraverso la quale sono divenuti e in funzione della costruzione del proprio divenire. Gioia e cibo rafforzano il fisico umano permettendo di continuare ad incubare il corpo luminoso. Gioia e cibo possono assorbire l'essere umano risolvendo in essi il suo divenire. Eppure solo dove c'è cibo è gioia. All'essere umano è lasciata la scelta di distruggersi o di continuare la sequenza dei propri mutamenti. Dove non c'è gioia e il cibo scarseggia la dominano i maghi neri del macellaio di Sodoma e Gomorra. Ridiculous è l'effetto della guerra. Ridiculous è l'inganno presentato e non verificato. Quale leggende disperde fama attraverso i suoi voli? Fama racconta leggende e imprese che si fissano nella memoria degli esseri umani. Fama è sorella di inganno. Dove il descritto nella mente umana non è frutto della descrizione dei fenomeni ma di voli di fantasia. Dove le idee non sono il risultato della dilatazione degli esseri umani nel circostante ma sono piuttosto i fantasmi di cui si circondano per bloccare quella dilatazione. Così fama racconta di imprese leggendarie in un tempo che fu. Così l'essere umano anziché legge la sequenza dei mutamenti fissa nel tempo, fissa quel tempo come eterno. Così la paura di ciò che fu si trasforma in paura di ciò che potrebbe essere se. La paura blocca l'azione e l'essere umano si ritrae dall'affrontare la contraddizione assalito dal ridiculus. Quando un essere umano si ritrae dalla contraddizione senza aver provato a risolverla è un essere umano che conserva se stesso ma che è stato sconfitto. È un essere umano che in qualunque momento può essere sconfitto. Un essere umano sconfitto nell'affrontare una contraddizione è un essere umano che ha combattuto, è stato sconfitto ma ha combattuto per difendere la sequenza dei mutamenti che fondava il proprio divenire. Un essere umano che si è ritirato da una contraddizione è un essere umano attanagliato dai fantasmi di un passato che spaccia come assoluto. È un essere umano il cui divenire è distrutto. Egli non è in grado di affrontare nessuna contraddizione, non è in grado di costruire nessuna nuova sequenza di mutamenti. Quando un essere umano viene sconfitto dal ridiculus può soltanto aspettare che la morte del corpo fisico ponga fine alle sue pene. Ridiculus sconfigge l'essere umano così profondamente da inibire la sua capacità di costruire una nuova serie di mutamenti, un nuovo divenire. Così fu per Annibale. Quando Annibale si ritirò, anziché affondare il suo attacco a Roma era stato avvolto da Ridiculus, era stato sconfitto definitivamente. La sconfitta fisica era solo una questione di tempo e di condizioni. Tumulto è l'istante in cui la contraddizione giunge al termine. Tumulto vive nell'esasperazione delle contraddizioni. Nel tumulto si decide la sequenza dei mutamenti. Nel tumulto molte sequenze di mutamenti si risolvono riducendosi a nulla. Altre sequenze di mutamenti sgorgano. Tumulto è come Tellus. La terra è fonte di vita. Tumulto è fonte di sequenze di mutamenti. Nel tumulto le contraddizioni si risolvono. Dal tumulto ripartono le sequenze di mutamenti. La grandezza di questo centro di energia vitale è tale da abbracciare l'intero essere natura. Ogni volta che in quest'essere le contraddizioni si risolvono attraverso la guerra, tumulto diventa sempre più grande, fondando il proprio divenire nell'eternità. Tumulto non può esistere senza le contraddizioni che si risolvono mediante la guerra. Senza Marte. Così il divenire degli esseri umani viene rinnovato attraverso tumulto, percorrendo nuove strade come risultato dello sgorgare della soluzione di contraddizioni. E passiamo a Vica Poca, che non è vittoria. Vica Poca, Vica Pota, è Vica Pota. È il cammino dell'essere nella sequenza dei propri mutamenti. È la capacità dell'essere umano di seguire la sequenza dei propri mutamenti, nonostante sia costretto ad affrontare le contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra. La soluzione di quelle contraddizioni lo rafforzano, non lo indeboliscono, né tantomeno distruggono la sequenza del suo divenire. Vita Poca è un centro di energia vitale che si nutre delle tensioni volte a superare le contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra. Nel paganesimo romano questo centro di energia vitale viene assorbito da vittoria, ma non è vittoria. Vittoria è l'atto di un'entità complessa di esseri, una città, un paese, uno stato, mentre Vica Poca è la vittoria del singolo individuo. Comunque la distruzione è infima e al veggente appaiono poco distinte, in quanto la distruzione appare nel fare degli esseri umani e non nella proiezione dei mutamenti. Vittoria è un centro di energia vitale attraverso la quale insiemi di esseri umani fondano il proprio divenire come un'unica unità. Quando a Roma diventa sempre più uno stato omogeneo, Vittoria rappresenta la proiezione dello stato nel divenire della sequenza dei mutamenti. Quando i cristiani si impossessano del comando sociale, una delle prime cose che fanno sarà la distruzione dei simboli attraverso i quali il centro di energia vitale si relaziona con l'ufficialità del rito. La moglie di Stilicone ruberà la collana preziosa e la statua di Vittoria sarà rimossa dal senato. È la distruzione della sequenza dei mutamenti di quello stato. È la distruzione del divenuto. Al divenire di quella sequenza di mutamenti si sovrappone una nuova sequenza di mutamenti. Il terrore cristiano impererà per secoli. Vittoria è muta. La sequenza di mutamenti che segue è quella del potere di essere, non quella del potere di avere. Quel centro di energia vitale ricomincerà a pulsare nelle nostre terre quando il potere di morte del cristianesimo sarà relegato e distinto dal divenire dello stato. Mentre Vittoria tace e muta, Vicka Pota continua a svilupparsi nel cuore di ogni singolo essere umano. Le sequenze delle vittorie dei piccoli, Vicka Pota riporteranno lo splendore di Vittoria. Infatti li hanno messi sui rovi, uno dopo l'altro, finché non hanno più potuto farlo. Lo sviluppo di Vittoria non è legato soltanto agli esseri umani e ai loro insiemi omogenei, ma ad ogni altro essere della natura che affronta contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra. Così Vittoria diventa anche Epiteto, un Epiteto di Quirino, di Marta, di Giove e anche di Ercole. Così ogni volta che un essere affronta una contraddizione che si risolve attraverso la guerra, nutre Vittoria, nella misura in cui la contraddizione sviluppa una sequenza di mutamenti volte ad aumentare il potere di essere del singolo individuo o essere che interviene nella contraddizione. Non è Vittoria quello del potere di avere, mentre sottomette schiavi per servirlo. Non è Vittoria quello dei maghi neri che mettono in ginocchio gli esseri umani davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. È appropriazione e come appropriazione possono relazionarsi soltanto con gli esseri ammalati di energia vitale stagnata, non con i centri di energia vitale formatisi attraverso lo sviluppo del potere di essere costruito nel divenire e per il divenire degli esseri umani nell'eternità. E per concludere il discorso sulla guerra c'è un ultimo commento. Queste divinità concorrono alla guerra. Certo, sicuramente ce ne sono altre che sono sparite, però questo è il divenire magico della guerra. Ma lo è dal punto di vista pagano, non lo è dal punto di vista cristiano, non lo è dal punto di vista di chi si impossessa degli esseri umani, lo è dal punto di vista di chi sviluppa il Dio che cresce dentro. Bene, facciamo per concludere, poi daremo un po' le linee finché c'è tempo, il commento sulla guerra. All'interno del potere di essere, la guerra è una via alla conoscenza e alla consapevolezza. È un processo attraverso il quale costruire un cammino per diventare eterni. Il concetto di guerra, determinato dal potere di avere, è un concetto diverso. È il concetto di appropriazione per sottomettere e per accumulare. Il potere di avere sviluppa se stesso sottomettendo tutti e tutto in funzione del proprio sviluppo senza affrontare l'esistente. Il potere di avere saccheggia l'esistente, non lo modifica, non costruisce, non paga lavoro con lavoro, si appropria di quanto esiste per poter trafficare in schiavi il vero fine della sua appropriazione. Nel potere di essere lo scontro non è finalizzato l'appropriazione, se non limitato alla soddisfazione di bisogni determinati, ma è legato a salvaguardare lo sviluppo degli individui o degli esseri, oppure è un processo di autodeterminazione in contrapposizione al potere di avere. È un processo di liberazione umana. La via alla conoscenza e alla consapevolezza che faccia della guerra il suo modo di procedere nella costruzione del corpo luminoso è una via dura per qualunque essere che intenda percorrerla. In ogni istante può intrappolare l'essere in un'illusione di potenza, ammaliando quel fascino del dominio attraverso il quale il potere di avere tende ad impadronirsi degli esseri, distruggendole il divenire e il loro potere di essere. L'essere umano che percorre quella via sviluppa sicuramente un grande corpo luminoso, ma a fronte di un altissimo numero di altri esseri umani che su quella via soccombono. L'arte della guerra nel potere di essere è uno strumento usato dal psichista nel processo del suo divenire. La manipolazione del divenire non può avvenire attraverso le contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra. Le contraddizioni che si risolvono attraverso la guerra possono soltanto interrompere dei percorsi di mutamenti che possono danneggiare il divenire degli esseri umani, ma non possono costruire il futuro. All'interno dell'arte della guerra non è Marte che fonde il futuro. È vacuna il costruttore attraverso la guerra, ma vacuna non affronta il nemico la luce e il sole. L'essere vacuna lavora nell'oscurità, costruisce il divenire, poi fissa il divenire attraverso uno scontro, la contraddizione che si risolve attraverso la guerra. La guerra non costruisce nulla. La guerra, specie la guerra delle armi, ma anche qualunque altro tipo di guerra, è solo un atto di distruzione. La guerra è l'ultimo rifugio, anzi è l'ultimo rifugio dei disperati perché non ha nessun'altra possibilità ed è la soluzione degli ignoranti, degli idioti, degli stupidi. Solo gli ignoranti, gli idioti e gli stupidi vanno a distruggere il presente senza sapere cosa andare a costruire. Certo, se uno sa cosa andare a costruire e agisce per alterare il presente è un altro discorso, ma la guerra è arte di distruzione del presente e solo gli idioti usano la violenza. La violenza è il rifugio degli incapaci, sempre questo. Oppure è l'ultimo rifugio dei disperati, ma questo è un altro discorso ed è l'unico discorso che può essere affinato al paganesimo. Bene, chiudiamo qui per questa sera la trasmissione su ciò che porta a diventare eterno nella regione romana. Penso che con altre due sere avrò finito il libro. Avrò finito il libro e poi attaccheremo sull'ultima parte del libro Giornato dell'infiamma umana, poi parleremo di fenomeni di premorte interpretati da stragoneria e del paganesimo politico e poi andremo avanti e avanti e avanti. Non c'è problema, non c'è tantissimo. Va bene, detto questo, prendiamoci un'altra cosina. Cos'è che ci prendiamo? Ci prendiamo quello che faremo subito dopo a ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. ed è esattamente l'orrore della sottomissione in Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, quel bellissimo Vangelo, è l'essenza stessa della sottomissione. Bene, noi analizzeremo cinque episodi di quel Vangelo e vedremo come questo povero pazzo... Vediamo un attimo. Pronto? Francesco Vicenza. Ciao, dimmi. Volevo dirti che i pagani, cioè il vostro movimento religioso, ha un formidabile concorrenza in quelli che dico l'anticristo dei falsi cristi. Cioè le varie chiese, le varie sette cristiane, sono in realtà creatrici di politesimo, perché ognuno ha un cristio diverso dall'altro. Quindi se sono più pagani di voi, vi battono in pista. Ecco, hai capito adesso? Va bene, d'accordo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, caro Francesco. Non esiste concorrenza quando si va a costruire la vita. Possono esistere delle cose diverse, dei modi diversi di intendere e di vedere, ma non troverai mai una concorrenza fra costruttori. Cioè i costruttori, se stanno costruendo una casa, possono anche passarsi l'un l'altro i mattoni. Sono i distruttori che hanno paura della concorrenza, sono chi distrugge la vita, chi sottomette che si contende l'altro il bestiame. Hai un esempio bellissimo a Timor in questo momento. La violenza dei missionari a Timor è stata bestiale. Ha trasformato mezza isola costringendo le persone a convertirsi al cattolicesimo. Gli hanno distrutto la capacità di guardare il futuro che li viene incontro. Gli hanno distrutto qualsiasi modo di affrontare la vita. Bene, questa gente ha approfittato di questo movimento che è stata la rivoluzione di fiori in Portogallo per avere l'indipendenza per staccarsi dal colonialismo. Giustamente una buona operazione. Però questa operazione i cattolici intendevano prendersi in mano, cioè i cattolici, i vescovi, cioè prendersi in mano il controllo della popolazione. Bene, in questo controllo della popolazione hanno avuto la concorrenza dei musulmani. I musulmani hanno detto no, questo bestiame è mio. No, gli hanno detto i cattolici, questo bestiame lo voglio io. No, tu devi rispettare il mio greggio e il mio bestiame. No, gli hanno detto i musulmani. Questo bestiame è mio e me lo prendo io. E il bestiame? E la capacità di costruire il futuro? La capacità di affrontare il futuro? I missionari hanno ucciso, hanno distrutto, saccheggiato la capacità di quegli esseri umani di leggere le trasformazioni del mondo che gli stava attorno, di leggere cosa stava succedendo, di sapere le loro scelte dove andavano a parare. Bene, i missionari hanno distrutto tutto questo, il cattolicismo ha distrutto tutto questo. E lo ha distrutto generazione dopo generazione, mettendoli in ginocchio, costringendoli a pregare. Non erano più in grado di leggere cosa succedeva attorno a loro. Oh, che bello, è arrivata l'indipendenza. Ma certo, gli hanno detto prendete i portoghesi l'indipendenza. Noi cosa ce ne frega? Soltanto che non hanno dato l'indipendenza a quegli uomini che hanno occupato, cioè quegli uomini che hanno sottomesso a quel sentire pagano, a quel modo di essere, quel mondo circostante. Mi hanno dato quell'indipendenza degli uomini che avevano costretto generazione dopo generazione a dimenticare la loro relazione col mondo che li circondava e li hanno consegnati praticamente in mano ai pastori cattolici. I pastori cattolici non hanno detto al greggio, alla gente, siate persone, affrontate la vita, prendete in mano la vita. No, hanno detto voi dovete essere bestiame del mio greggio. Solo che i musulmani sono entrati in concorrenza. Entrati in concorrenza chi è che ha avuto la peggiora fine? I vescovi cattolici sono scappati, qualche prete è stato ammazzato e il bestiame del greggio viene massacrato, distrutto, umiliato, cacciato via, distrutto nei sentimenti, distrutto nel suo sentire. distrutto nella sua vita. Ah, dopo magari interverrà una forza internazionale, interverrà magari una forza internazionale che comincerà a bombardare, magari non so, a bombardare Giacarta a sto punto. E questo è il modo di affrontare la vita delle religioni monoteiste. E questo è il modo con cui queste religioni monoteiste hanno affrontato la vita. musulmani e cristiani, cattolici. Perché i cattolici erano portoghesi, i portoghesi e i fatalità erano cattolici. Ditemi un po' voi, le operazioni che sono state fatte dai missionari cattolici, dai missionari cristiani, dai salesiani, dai gesuiti, da tutti quanti, che in Portogallo hanno voluto costruirsi la loro colonia cattolica in Asia, le operazioni che hanno fatto 100, 200, 250 anni fa, cominciate allora, hanno proseguito generazione dopo generazione fino ad arrivare ad oggi. Gli hanno detto, ma che vi frega, ma non è importante, ma tanto facciamo un bellissimo singletismo, che Dio avete? Questo Dio, bene, questo Dio lo chiameremo Gesù, ma cosa vuoi che sia? Tanto è lo stesso Dio, no? Tu hai cambiato nome, ma è lo stesso Dio. E giorno dopo giorno hanno distrutto quella che è stata la capacità degli esseri umani di affrontare il mondo circostante. Hanno distrutto la loro determinazione, hanno distrutto la loro capacità di farsi Dio, hanno distrutto la loro capacità di leggere le trasformazioni sociali nelle isole vicine, come avveniva, cosa succedeva in Europa, quali erano le ripercussioni che ciò che succedeva in Europa avrebbe avuto nella loro isola. non erano più capaci di leggere la vita. Questo è l'effetto della pulsione di morte, questo è l'effetto di mettere in ginocchio i bambini, questo è l'effetto di costringere le persone a pregare. Non è un effetto diverso e questo effetto porta alla distruzione, cioè porta al fatto che le persone siano gregge di un pastore che le porta al macello e non abbiano la capacità di determinare se stesse. Non hanno la capacità di dire io sono importante, io devo esistere, io devo capire cosa sta succedendo, io devo essere parte della vita, io devo essere determinante del mio sistema sociale, io devo essere responsabile del mio sistema sociale, io devo arricchire il mio sistema sociale e non portarlo alla distruzione. Bene, mentre degli sciacalli si sono divisi il gregge, hanno distrutto praticamente quello che era la capacità di espansione degli individui, la capacità di determinazione degli individui, a questo punto questi pastori li hanno portati al macello. Il buon pastore porta il suo gregge al macello. Adesso sono i musulmani che li stanno massacrando e domani arriveranno gli aerei, non so da dove, dico una cosa così, tipo dall'Australia, bombarderanno quest'altro e così via. Tenete presente che la situazione è il risultato di tutte le operazioni cattoliche, di operazioni CIA, di operazioni di controllo della popolazione. Io mi ricordo per esempio che l'attuale presidente spodestò un altro presidente, fece un colpo di Stato contro un altro presidente che era comunista, si diceva, una roba di questo genere. Per cui tutto quanto, e questo fu appoggiato dalla CIA, il via libera all'invasione di Timor-Est, Timor-Est fu dato direttamente da Ford o comunque fu coperto dagli americani, una cosa che andava bene. Cioè esistono tutta una serie di operazioni, tutta una serie di decisioni che sono state fatte passare come decisioni irrilevanti, che non erano importanti, che non è e hanno, queste decisioni avevano un solo fine definitivo, un solo scopo ed era quello di portare il Grece al macello. Questo è il senso. Adesso voi sentirete sterminate persone in chiesa. Sì, i preti li hanno messi nelle condizioni di essere esterminati. Gli hanno tolto la capacità fisica, gli hanno tolto la capacità intellettuale, gli hanno tolto il pensiero astratto, gli hanno tolto la capacità di espandersi nel mondo circostante, gli hanno tolto la capacità di leggere i percorsi politici, i percorsi sociali del mondo, gli hanno tolto la capacità di capire come i meccanismi avvenivano e li hanno trasformati in bestiame. Bestiame di un Grece che sta andando verso il macello. Dopo qualcun altro interverrà a difendere questo Grece, arriveranno aeree, arriveranno altre cose. Però questo è il risultato delle religioni monoteiste. Questo è il risultato del cristianesimo. E vedremo come in Giovanni nel suo Vangelo ci sia questo, cioè questo produce. Cioè il Vangelo di Giovanni è il produttore della pulsione di morte, è il produttore della distruzione umana. Bene. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e alle ore 19 per la seconda parte della trasmissione. Abbiamo quasi finito ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, poi andremo avanti con altre cose. Naturalmente ogni volta che una persona sente un libro, magari si trova vicino o lontana da quel libro a seconda del proprio sentire, del proprio modo di essere. Probabilmente con il libro I fenomeni di premorte interpretati della stragonaria del paganismo politeista alcune persone sono più vicine che non alle immagini della religiosità pagana. Le immagini della religiosità pagana possono essere più distanti, così vale per gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici avvicinano delle persone mentre magari l'anticlericalismo attrae più persone quando magari si parla di Gesù di Nazareth dell'infamia umana, più che anticlericalismo, anticatolicesimo veramente. Però ricordatevi che fa parte tutto della stessa costruzione. L'uno non può esistere senza l'altro. Se l'uno esistesse senza l'altro dovremmo chiederci è dopo? E ancora cosa succede dopo? Perché non dopo? E il resto? Non esiste un pensiero semplice che si risolve in pochi minuti. In realtà le cose sono sempre lunghe, occorrono sempre parole, occorrono sempre analisi, occorre sempre impegno e sempre lavoro. Va bene. Io qui vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15, Magia Stagonaria Paganesimo. Ci sentiremo prossimamente anche con Franco per fare discussioni assieme. Abbiamo già stabilito un paio di date. Vedremo in seguito come le articoliamo e anche il livello di discussione così magari il dialogando con le telefonate vengono fuori altre cose ancora. Bene. Grazie per avermi ascoltato. Ricordo ancora l'indirizzo. Sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie e a risentirci.